E questo è il Tai Chi che aspettava da tempo, i movimenti dolci, le braccia delle gambe, con la mente pronta a seguire, con il ritmo morbido del corpo che ha trovato la sua armonia. L'armonia che si identifica nella musica, che ci nasce dentro, che ci accompagna con il suo calore fatto di sperare. E il tempo della vita che avanza, che comunque sa rassicurare e farci amare la poesia, che con la musica ci segue fedele, compagnia amore. Grazie.